hai rallentato tanto direttamente dal castello delle cerimonie allora bambini primi giri di invernali ma non è ancora inverno e autunno abbiamo montato la gommetta grossa la bici tutta settata per fare le discesine belle delle rive rosse para ginocchiene barba lunga leggera pancetta abbiamo il casco red bull e poi un'altra cosa un'altra cosa adesso ogni volta che partiamo per un trail abbiamo il fischietto allora partiamo per il galeotto che farà schifo la faremo almeno io a gran parte a piedi tanto fa lo stesso il video farà cagare comunque ma è il pensiero che conta guardate guardate ragazzi guardate io penso che la farò a piedi guardate guardate ragazzi guardate io penso che la farò a piedi no ma che cazzo c'è qua ma dai li percorso ostacoli qua no ragazzi tutto il bosco c'è guardate che agilità guardate vedete che hai fatto un allenamento intenso al castello delle cerimonie allora amici ascoltatori siamo nella famosissima colata lavica perché qui fondamentalmente siamo su un un vulcano inattivo un vulcano delle cazzate ecco la talavica ragazzi ma che passaggio bastardino c'è e bisogna stare attentini perché qui sbatti i dentini video partito pronto 3 2 1 allora ragazzi qui tratti o tratto impegnativo emozionante da affrontare senza paura e facendo attenzione cannaletto 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 e ho visto che si è andato giù un po con il trattori a differenti qui arriviamo dritto scavallata qui stiamo a sinistra, anzi a sinistra di qua splendida campagna dell'Alo di Tiberia sulla sponda del vulcano inattivo il vulcano di Cazzate quelle ne diciamo eh io qua faccio il saltino oppla ho scavato un casino eh oh donc oh 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 azzò tu c'entravo oh oh ragazzi questa qui è una delle cose discese più toste mentre il parallelo il m41 classico è comunque abbastanza sì impegnativo ma comunque non abbastanza liscio come come terreno abbastanza regolare qui invece ci dobbiamo impegnare ad affrontare tutte ragici buchi buchetti pietroline pietre sassi tutto con una discreta pendenza il bis io lo reputo uno di quei trail abbastanza impegnativi cioè devi essere già un buon livello per poterlo affrontare e qui c'è un saltino e qui siamo al parco arcobaleno luogo della festa celtica amici ascoltatori giro per oggi finisce qua adesso andiamo a casa il video è stato abbastanza inutile come come tutti gli altri in sostanza a parte quello ci divertiamo sempre in questi posti che sono di casa non avessimo questi per carità non non avrebbe senso pedalare sulla mountain bike di questo tipo ragazzi ci si vede al prossimo video ciao ciao a tutti